Salve a tutti ragazzi, io sono Silverala, oggi video post Bari Virtus Entella 0-0. Desolazione perché? Ora voi scriverete nei commenti perché critichi il Bari in questo video, non sto criticando il Bari ma sto criticando il gioco del Bari. Non mi piace il gioco del Bari, non mi piace la fase di impostazione del Bari, infatti si vede benissimo che manca e registra il centrocampo. A quel punto è stato comprato quest'estate Porcari, ma Porcari non è adatto per fare il Pirlo, il Rakitic del centrocampo del Bari. Gioca benissimo l'unico, solo Valiani, Romizzi si prende la briga di impostare e magari spesso di difendere, ma non sono quei tipi di giocatori che possono farci fare il salto di qualità. La difesa va bene, anche se Contini lo vedo abbastanza a pensare ai fatti suoi quando gioca. Guarda non è più quella specie di sicurezza che era negli anni scorsi il nostro portierone. In attacco invece abbiamo giocatori prevalentemente a attrazione anteriore d'attacco. Allora abbiamo Sansone che non sa tirare le punizioni, Rosina che è l'unico che gioca bene, l'unico che sbatte e si impegna veramente per questa squadra, si impegna veramente per vincere e conquistare tre punti. Cosa che non fanno i vari, Maniero che è l'ombra di se stesso, una desolazione, Maniero non tocca un pallone, non lo gestisce, non lo segna soprattutto. De Luca che è un fantasma di se stesso e di quello che avevamo ammirato nelle prime uscite stagionali. Poi abbiamo Camara che il campo non l'ha mai visto e probabilmente non lo vedrà perché Nicola ha deciso così, allora se Nicola decide così rispetto per Nicola, assolutamente. Poi Petro Polus che ha giocato benissimo contro la Ternana negli ultimi 20 minuti sfionando pure il gol, lasciato in tribuna a vedere la partita dell'Aicatene. E che altro c'è da dire? E Puskas che ovviamente ha giocato pochissimo contro il Crotone, non ha fatto niente e Nicola lo lascia in panchina a guardare le tribune dell'astronave. Allora ragazzi pareggiamo 0-0 con l'Entella, dai, con l'Entella? Cioè noi siamo il Bari, non possiamo pareggiare con l'Entella, con tutto rispetto a tutti i tifosi dell'Entella che hanno giocato un'ottima partita tirando in porta molto più del Bari con Masucci, con Ferreira, con Caputo che aveva il dente avvenenato e stasera voleva segnare. E questo si è visto benissimo. Ma noi ragazzi non possiamo pareggiare in questo modo, in questa partita, il cui unico vero problema creato dalla difesa dell'Entella è stato un tiro, deviato di Rocina al 48esimo del secondo tempo. Ma si può ragazzi, ma stiamo giocando una partita di serie B, siamo tra i professionisti, non stiamo giocando a Pontedera, Sassari in serie D, sembrava una partita di serie D. Quindi, cioè non c'è gioco, non c'è uno schema, non c'è un giocatore che inventa, quando arrivano davanti alla porta non sanno che pesci prendere. Sono costretti a giocarsela tra di loro e poi a ripartire da dietro con di Cesare che passa a Contini, Contini passa a Guarna, Guarna passa a di Cesare. Certo, organizzatela la manovra, ma avete sette giorni di allenamenti per cui organizzarla. Io non voglio dire niente ai giocatori che sono ottimi giocatori, sono dei grandissimi giocatori, ma è la mentalità con cui scendono in campo che non mi piace. Io ora non sto criticando il Bari che sono uno tra i pochi che forse anche l'anno scorso era incollato al teleschermo a guardare Latina, Bari finita 2-0 per il Latina, con i gol di Oduamadi e Brosco, se non mi sbaglio, credendo ancora in un posto e playoff. Io mi arrabbio in questi video, non perché critico la società, le scelte societarie, ma perché critico il fatto che non ci sia gioco in questa squadra. Quando arrivano davanti alla porta manca quello che te la sbatte dentro. Come erano stati capaci un tempo i vari Siaudone, che era un centrocampista ma segnava, Galano che inventava con le sue semi rovesciate, ricordatevi quella contro l'Empoli, come era stato capace di fare Joe Silva, ceduto inspiegabilmente al Palermo, come era stato capace di fare Ciani, che a ritorno al prestito si poteva benissimo ripendere dal Catania, che se ne sarebbe privato dopo la retrocessione dalla Serie A. Quindi ragazzi, io veramente non saprei che dirvi, abbiamo pareggiato 0-0, io non mi lamento della classifica, perché questi ragazzi sono quinti, ma come ci arriviamo quinti? Ci sono squadre che si basano molto sul cuore dei giocatori, cioè questi giocatori non stanno giocando con il cuore, e questo si vede, non hanno la stessa mentalità che avevano quei ragazzi che ci hanno portato a sognare due stagioni fa, ma che hanno la stessa mentalità che hanno squadre come il Car, come hanno avuto il Carpi, come l'hanno avuto il Frosinone, come la sta avendo il Crotone in questo momento. Cioè, il Crotone sta giocando con Torromino, con Torregrossa, con Stojan, era scarso Stojan, vero? Mangia, era scarso, comunque Stojan, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando di giocatori poco blasonati rispetto ai vari De Luca, Maniero, Romizzi, Guarna, Di Cesare, che ha avuto esperienze anche in Serie A. Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando da Baresi, stiamo parlando da squadra, da tifoseria, che totalizza circa 20.000 presenze ogni partita. Questa squadra merita di più, ma soprattutto merita uno stile di gioco che Nicola, per ora, non sta dando. Quindi, questa breve sintesi, non proprio della partita, perché della partita non c'è niente da dire, hanno giocato male entrambe, Entella a difendere, ma come blasonarli? Cioè, il loro biasimarli, il loro blasone rispetto al Bari è abbastanza inferiore, cioè, l'Entella gioca per la salvezza, ovviamente, noi giochiamo per la Serie A. Niente da dirvi, ragazzi, con tutto rispetto all'Entella, a cui faccio i complimenti, comunque, per aver giocato, nonostante fosse una squadra molto meno blasonata della nostra, hanno giocato veramente, hanno dato tutto in campo, cosa che non ha fatto il Bari. Noi ci rivediamo al prossimo video, scrivetemi nei commenti se siete d'accordo, per chi avesse visto la partita, scrivetemi nei commenti cosa non va secondo voi e cosa è da migliorare secondo voi, quale, diciamo, cambio in attacco azzeccato potrebbe dare quella stabilità e soprattutto quel numero di gol che per ora ci sta mancando. Un saluto a Biancorost a tutti, perché anche nel bene, nel male e soprattutto anche nei pareggi di cui non dobbiamo fare un dramma, si dice forza a Bari. Un saluto a Silverale.